Oltre quella stanza c'è di più, lo ha lasciato intendere Antonello Montante alla fine dei cinque giorni di interrogatorio dinnanzi alla corte d'appello di Caltanissetta. Parlando sul pretorio più volte ha detto di carte in suo possesso, oltre a quelle sequestrate nell'ormai famigerata stanza della legalità, dove c'erano dossier appunti su persone che gli erano nemiche o che a vero titolo incrociavano la sua strada. I racconti dell'ex paladino dell'antimafia siciliana, condannato a 14 anni in primo grado, hanno coinvolto personaggi del mondo della politica e non solo, che hanno già annunciato querele. Dal suo più grande accusatore Alfonso Cicero, testa del processo, parte civile che un tempo gli fu amico, a Marco Venturi, altro testa del processo ed ex assessore regionale, fino ad arrivare ad Attilio Bolzoni, il giornalista parte civile, l'ex presidente della commissione antimafia Francesco Forgione e l'imprenditore Piero Di Vincenzo. Terminata la pausa estiva, il processo riprenderà il 6 di settembre. Sono soddisfatto quindi? Sono soddisfatto, ho ricoscito tutti questi fatti dove mi hanno visto protagonista e me e i miei colleghi gli ultimi 15 anni sulla decisione legalitaria nel Paese, non solo in questo territorio di Seno. Ho cercato anche di, spero di essere riuscito anche a svelenire, quindi a togliere tutto quel veleno che ha fatto da protagonista in questo processo, sia dalla fase dell'indagine fino alla conclusione, ad arrivare in giudizio e anche in questo processo dove mi vede il protagonista dopo la sentenza di primo grado. In qualche maniera ho anche contribuito a ricostruire gli aspetti negativi positivi sui miei detattori, quindi sui miei accusatori, quindi sono soddisfatto, ho sempre fiducia nel caso all'istituzione magistratura, questa è la prova che sono qui a farmi sentire. Avrebbe voluto dire dell'altro che ancora non ha detto? No, io penso di aver detto tutto quello che mi ha permesso di dire la Corte, perché naturalmente la Corte è stata, l'ho vista molto attenta, quindi nelle riconcessioni ai fatti, sono soddisfatto di aver ricostruito tutta quell'attività che mi ha visto protagonista, che tanti sanno, che in qualche maniera spero che dovrebbero, in qualche maniera, queste mie dichiarazioni, che non sono spontanee, sono proprio testimonianze sulle carte, non solo in termini di discussione, ovvero supportate da carte che i miei avvocati produrranno nei prossimi giorni. Ma chi annuncia il querele e lei come vertica? Ma io dico che ben vengono le denunce il querele, perché è un'altra occasione per poter chiarire la mia posizione e poter dimostrare e tirare fuori quelle carte, magari che non riusciamo a tirare fuori in questo processo, quindi è una cosa importante che arrivi qualche querela in più. Ha detto che nei giorni scorsi tutti vorrebbero che parlassi dei magistrati, non tutti chi, a chi lo si avrebbe словito? I giornalisti principali che credono sempre da magistrati? No, incuriosisce tutta questa cosa dei magistrati, i magistrati non hanno fatto assolutamente nulla di illecito con il sottoscritto, come i magistrati, come le forze dell'ordine, come tutte quelle istituzioni, perché comunque si abbassi del nostro contributo. Se la Commissione Antimafia dirà di sì, lei andrà a parlare all'antimafia? Non mi sottraggio a nessuna posizione istituzionale.